Cos'è che aveva vinto? C'è un po' di entrare in teatro? Che ha scominciato? E com'è che ha scominciato? Abbiamo ascoltato la televisione di Ciderio Font per il mistero Buffo e ha imparato una tecnica che è successo il teatro che è un gran blu e ci sono alcuni argomenti che avessero i questioni in inglese, in francese o in lingua ma non si può fare e 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 non si può fare tre quarti di ora in una vera nuda e non mi ricorda che si è fatta che si fa in scuola e non si può fare c'era un ubrale che ora è stato 90 anni e non si può fare il padre Riccardo si narra e questo mi narra sempre non farle queste cose capiterà sempre infatti il mistero Buffo ci via padre Riccardo ora è di religione e questo verrà pure e non vorrei approfondire svegliere l'ipotere fino a nulla tipo Grazie a tutti.